Un 24enne avrebbe accoltellato, afferendolo gravemente a un connazionale 43enne nei giardini Denitis a Barletta e questa mattina è stato eseguito il fermo a Roggiano Gravina in provincia di Cosenza con l'accusa di tentato omicidio secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato della città della disfida, coordinati dal PM Francesco Aiello della procura di Trani Il 15 novembre scorso il 24enne, un senza fissa dimora che mai si era visto in città, ha colpito il 43enne al culmine di un diverbio avvenuto per futili motivi con un coltello, con una grossa lama lo avrebbe ferito prima nella regione destra dell'addome e poi sulla guancia destra provocandogli ferite lunghe e profonde La vittima ha barcollato per tutta la notte fin quando non è caduto al suolo ed è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 che l'hanno condotto al di Miccoli di Barletta I medici del pronto soccorso hanno allertato la polizia che è intervenuta per ascoltare l'accaduto della vittima e ricostruire la dinamica dell'accaduto Il 43enne ricordava solo il nome di chi lo aveva aggredito, gli agenti, grazie al solo nome e alle numerose immagini di videosorveglianza analizzate sono riusciti a risalire l'identità del presunto aggressora Nonostante il 24enne avesse fatto perdere le sue tracce, grazie alla collaborazione tra il commissariato di Barletta e quello di Castro Villari L'uomo è stato individuato all'interno di un casolare di campagna a Roggiano Gravina Durante la perquisizione sono stati ritrovati anche gli abiti indossati dal 24enne la sera del tentato omicidio Fermato, il giovane si trova nel carcere di Castro Villari Fermato, il giovane si trova nel carcere di Castro Villari Fermato, il giovane si trova nel carcere di Castro Villari